Il puzzle è un gruppo di persone, tra cui professionisti, insegnanti, famiglie soprattutto, che si è costituito all'interno del coordinamento territorio e disabilità, che è un coordinamento che nasce nel 2010 e ha sempre fatto riferimento alle realtà associative, mentre invece da maggio di quest'anno si è voluto un attimo rivedere e ha cercato di attivare all'interno di questo coordinamento delle famiglie e dei professionisti, fra cui avvocati, nonché insegnanti, ma psicologi, comunque sia tutto ciò che riguarda il tessuto sociale. Perché? Perché deve essere un gruppo, l'obiettivo almeno è questo, che in un qualche modo si informa, si forma e si aiuta. Cioè ha la finalità innanzitutto di informare, perché fondamentalmente una famiglia informata è in grado di tutelare meglio il proprio figlio che ha una condizione di disabilità. E nello stesso tempo, interfacciandosi con altre figure che sono all'interno di questo gruppo, si ha l'opportunità di crescere, di conoscere e soprattutto di mettere in moto una circolarità informativa e di conoscenze, che diversamente non sarebbe possibile. In questo ultimo periodo ci siamo proprio attivati in merito alla prossima presentazione della modulistica del nuovo PEI. È un nuovo PEI che oggettivamente ha delle parti sicuramente significative in modo positivo e alcuni punti invece non lo sono proprio. Tant'è che ci ha messo nella condizione a noi familiari di informare in modo mirato su quelle parti, quindi parlo di informare le famiglie, ma anche portare a conoscenza degli stessi insegnanti che a volte non si mettono dalla parte delle famiglie, ma in modo non voluto, forse magari con una lettura diversa, mentre invece noi famiglie chiaramente siamo portate a guardare una realtà molto più ampia che in qualche modo va a evidenziare dei passaggi che per altri magari invece non sono così importanti, mentre invece per la vita di un ragazzo con disabilità sono estremamente importanti, soprattutto per il suo sviluppo globale. Quindi i punti che sono stati evidenziati poi a livello nazionale, diciamo quei punti che non trovano d'accordo assolutamente le famiglie, ma anche alcuni insegnanti, alcune persone che sono all'interno dell'osservatorio. Quindi ci siamo appunto ritrovati più volte online con tante famiglie e abbiamo letto insieme tutti questi passaggi e espresso ed evidenziato soprattutto quello che non è giusto. I tre punti cruciali del PEI che non sono diciamo a nostro avviso assolutamente corretti, sono il, siccome premesso che il PEI è uno strumento che ha la finalità di trovare le condizioni per poter includere un ragazzo con disabilità all'interno del contesto classe in questo caso. Quindi il PEI è, essendo uno strumento, deve partire con una volontà certa di trovare le soluzioni, non di creare delle difficoltà. Quindi leggendola in quest'ottica, perché è questa l'ottica in cui va letto il PEI, ci sono tre passaggi che sono assolutamente discutibili. Il primo è la non partecipazione, quindi l'essere non componenti del gruppo di lavoro operativo da parte delle famiglie, quindi da che eravamo componenti in questo momento invece ci vedono come partecipanti, quindi ha una condizione da un punto di vista dell'azione completamente diversa, perché non ci vede come coloro, essendo noi famiglia, diciamo nella parte anche di propositività e di decisionalità rispetto a determinate azioni che devono essere assolutamente condivise all'interno del PEI. Poi c'è la, diciamo così, la presentazione di un piano di studio che può diventare diversificato, sì, ma soprattutto che possa diversificato nel senso che si possono portare avanti delle scelte che determinano l'esonero del ragazzo alla partecipazione attiva in classe o anche fuori dalla classe, là dove c'è una necessità specifica su progettualità, ma di determinate materie. Quindi la scelta di non far partecipare al ragazzo a tutta la programmazione di classe sulla base di una lettura del suo funzionamento. La terza cosa che è conseguente è la riduzione dell'orario dell'insegnante di sostegno. Quindi sono i tre elementi oggettivamente cruciali ai fini di un'inclusione. Si parla tanto di inclusione, mentre invece si stanno mettendo dei mattoncini per creare l'esclusione, perché non è questa la finalità di un modello, di una modulistica che ha come obiettivo l'inclusione del ragazzo e dello studente con disabilità. Io passo la parola a Paolo che è molto ben ferrato su tutta la parte normativa nella specificità e quindi Paolo a te passo la parola. Anzitutto grazie dell'attenzione, grazie anche dell'ospitalità e grazie anche di questa ottima introduzione che ha fatto la signora Francesca Busca, perché ha colto in sintesi corretta tutto quello che andava detto. Personalmente ho elaborato nelle possibilità di salute e di tempo di questo periodo di convalescenza personale, ho elaborato insieme e con l'aiuto anche di mia moglie che sta molto nel campo. Noi abbiamo il dono di avere due figlioli con disabilità grave. Abbiamo elaborato un supporto, un'analisi che lei può trovare, chiunque può trovare, su Progetto Autismo, www.progettoautismo.it, si chiama il nuovo OPEI, una piccola analisi sui temi principali e sui problemi strutturali. Quindi tutto quello che secondo me va visto, che sono tante le cose, in realtà il documento del nuovo OPEI, di questo decreto interministriale, è piuttosto corposo, per cui viene fatta un'analisi, però non è totalmente esaustiva. Però, a mio avviso, viene fatta un'analisi di quello che di solito non viene detto, cioè dei problemi strutturali. Cioè, invece di stare soltanto a guardare giustamente le cose che non vanno in un documento, il capire il perché in questo documento non vanno queste cose. In parte sono state correttamente anticipate proprio da quello che ha detto la signora Francesca Busca. In sostanza che cosa è successo? Secondo l'analisi che propongo, e che comunque farà il giro dopo Pasqua a tutti i dirigenti, anche i dirigenti del Miurra, è successo questo, che nel corso degli anni quella che era stata un'intuizione profetica, geniale, del legislatore, maturata con tanta fatica della legge 104 e col DPR del 94, i termini, perché purtroppo nel linguaggio, noi non siamo più abituati, perché oramai nel linguaggio facciamo passare tutto e il contrario di tutto, ma le parole sono importanti, dicevano Anni Moretti, quel famoso film, e lo sono tanto più in un contesto giuridico. Il contesto giuridico era questo, che quando si parlava di gruppo di lavoro si parlava di redazione congiunta. Il legislatore perché ha usato questi termini? Perché innanzitutto è un gruppo eterogeneo, cioè è un gruppo fatto non soltanto dagli insegnanti, ma è fatto dagli specialisti ed è fatto in modo particolare della famiglia, la quale l'articolo 30 viene riconosciuta dalla Costituzione con la sua funzionalità e la sua dignità educante. Quindi il primo soggetto educante nella vita di un ragazzo, di una ragazza, di un bambino o di una bambina, anche con disabilità, è anzitutto la famiglia. Giustamente la signora Francesca Busca ricordava, non è che possiamo togliere l'apporto che dà la famiglia semplicemente introducendolo come partecipante, è una violenza a quello che la famiglia è. Tra le altre cose la Costituzione, questo è importante, la Costituzione non crea un qualcosa, ma riconosce. La famiglia viene prima della Costituzione, è una proto-istituzione, è l'istituzione che dà significato a tutte le istituzioni che ci sono, sia quelle grandi, quelle macroscopiche, quindi la scuola, la sanità, le funzioni pubbliche, ma anche i corpi intermedi. Se non ci fosse la famiglia non ci sarebbe niente. L'abbiamo visto poi in modo particolare durante questo periodo di pandemia, in cui il vero ammortizzabile ed educativo è stata proprio la famiglia. Ritornando al discorso che stavo accennando, l'intuizione geniale del legislatore di questa redazione congiunta, col tempo, purtroppo è stata dimenticata di fatto. Cioè che è successo? Che l'istituzione scuola, per tanti motivi che adesso non possiamo dire, ci porterebbe un'analisi di decenni che ci porterebbe via tantissimo tempo, la scuola si è come accaparrata un ruolo educativo totalizzante che non gli è proprio. Questa è diventata, questa malpractice, questa cattiva abitudine, questa cattiva pratica, è stata formalizzata per legge con la buona scuola, il documento legislativo 66 del 2017. Che succede? Che la buona scuola ha introdotto tante cose buone, però mischiate con delle cose ambigue, che andavano anche contro il dettato costituzionale, in modo particolare quello che stiamo parlando della famiglia, introducendo il termine per esempio approvato nel documento, quindi facendo slittare il gruppo di lavoro da un gruppo di lavoro eterogeneo, di redazione congiunta, a un qualcosa che appartiene alla scuola. Questo se noi analizziamo, e mi fa specie che purtroppo tanti colleghi che stavano nei tavoli di lavoro con il governo, non abbiano saputo cogliere questo aspetto lentamente prepotente della scuola, non hanno saputo cogliere questo aspetto. Però i fatti sono tanti, perché sono decenni che noi abbiamo famiglie che si lamentano, che fanno fatica per esempio a ottenere il documento pay, perché la scuola non glielo dà. Fanno richieste su richieste su richieste, magari anche richieste fatte a raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC e la scuola si prende i tempi, nella migliore delle ipotesi, ci sono alcune scuole virtuose, però alcune volte, diciamo alcune volte, in realtà purtroppo la maggior parte delle volte le scuole si prendono nei tempi eccessivi, trattando questo documento come se fosse una proprietà della scuola. Lei capisce che tutto questo è un problema enorme, perché cambia la natura, è come se io davanti a me ho una mela e dico che è una pera, non va bene. Io ho snaturato il gruppo di lavoro e ho snaturato praticamente il documento che viene prodotto dal gruppo di lavoro, perché mi sono appropriato, io scuola, mi sono appropriato di un documento come se fosse mio, l'ho introdotto in un ambito collegiale interno. Questo è stato un aspetto. Un altro aspetto purtroppo deleterio è che, come giustamente diceva la signora Francesca Busca prima, le cose vanno semplificate, non vanno complicate. Sono stati aggiunti tutta una serie di gruppi, sia prima che dopo il gruppo di lavoro, quasi a tamponare per, alla fine, il sottofondo, osservare in modo particolare le risorse di bilancio. Sono stati fatti dei gruppi, penso per esempio al GIT che ancora non è operativo di fatto, il gruppo di inclusione territoriale, il GLIR, sono stati fatti dei gruppi che in sostanza non fanno altro che burocratizzare tutto il procedimento, di renderlo complesso. Potremmo usare una cosa, proprio entro in questo momento, perché ci sono due elementi. Uno porta l'importanza, come diceva Paolo, del fatto che la scuola, alcune scuole no, ma tante sì, questo documento, che è un documento che assolutamente ha una condivisione fortissima, perché è presente la famiglia, è un documento che deve essere dato automaticamente alla famiglia. Ma perché molte famiglie non ce l'hanno? Ma perché purtroppo molte famiglie non sono state informate dell'importanza dell'avere questo documento. Quindi questo gruppo Paolo nasce proprio con questa finalità, perché il ruolo e anche le stesse associazioni molte volte non hanno passato questa informativa, cioè dell'importanza che la famiglia debba esserci e debba essere informata. L'altra cosa che mi viene da dire, quando una scuola che è nata come istituzione, diciamo è tra le agenzie educative primarie, agisce in questo modo, nel senso che crea delle condizioni che non sono finalizzate all'inclusione, è come il gatto che si mangia la coda, cioè perde proprio il valore che riveste. La scuola deve creare le condizioni per far sì che tutti i ragazzi possano essere parte attiva all'interno di un'agenzia educativa con le sue modalità. Intendiamoci, il ragazzo deve fare il suo percorso, ma non si può creare una condizione a priori che non glielo permetta. Quindi una scuola, se crea queste condizioni, sinceramente ti mette in una condizione di pensare a cosa sia diventata la scuola, perché non può erigersi ad agenzia educativa quando vengono a meno gli elementi che, visto e considerato che tutti sulla base della Costituzione hanno il diritto allo studio. Quindi quando la scuola mette nelle condizioni di far sì che il ragazzo non possa perseguire in modo corretto il suo percorso, perché? Perché non si arriva ad una condivisione progettuale e soprattutto esclude la famiglia che ha la tutela, diciamo, la parte, la sua tutela genitoriale, no? E quindi se esclude la famiglia vuol dire che non vuole essere, far sì che la famiglia sia parte di questo percorso. Sì, viene negato quindi il diritto allo studio. Certo. L'articolo 34 della Costituzione praticamente viene calpestato. In sostanza, riassumendo potremmo dire questo, che la scuola con una cattiva prassi e con alcuni degredi legislativi non ha fatto altro che danneggiare il gruppo di lavoro, creare delle barriere architettoniche, non avviare dei facilitatori e nello stesso tempo, come diceva giustamente la signora Francesca Busca, ha anche snaturato il proprio compito. Cioè si è fatto del male da sola. Quindi non è questo il modo di produrre le leggi, ci sono alcune leggi, tra altre cose, che in parte sono buone, in parte sono dannose. E noi, la nostra autocoscienza deve aiutarci anche a riconoscere le cose che non funzionano per migliorarle. Non è che automaticamente, siccome le leggi vengono fatte e perché vengono firmate dal Presidente della Repubblica, automaticamente diventano buone. Le leggi sono fatte da persone come tutti noi, quindi probabilmente qualcuno potrebbe anche sbagliare. Esattamente, ma che cosa ci aiuta dietro a giudicare una legge? C'è dietro una legge, c'è una filosofia del diritto, c'è un'impostazione. La nostra Costituzione, tra altre cose, è fortemente debitrice della matrice cristiana che ha introdotto tutti i criteri di cui parliamo, il concetto di persona, il concetto di sussiderietà, di solidarietà, di corpi intermedi. Sono tutti criteri di cui non potremmo parlare se non avremmo avuto il cristianesimo. La nostra Costituzione è intrisa di questo, si chiama gius naturalismo. Allora, se noi non teniamo conto di questi fondamenti e facciamo altro, noi non solo facciamo un danno al dettato costituzionale, non solo facciamo un danno sociale, ma facciamo un danno noi stessi, ci snaturiamo e poi non teniamo conto di quello che vogliamo fare. Praticamente in sostanza si impostano delle contraddizioni su contraddizioni. Le faccio un altro esempio piccolo piccolo, comunque leggendo il contributo che ho proposto, lì c'è scritto veramente molto, molto. Allora, un altro esempio piccolo che le faccio. Nel nuovo PEI, per esempio, con questo decreto interministeriale 182 che è stato fatto il 29 dicembre 2020, è uscito quando poi Renzi ha aperto la crisi, c'è anche questa coincidenza di date, con questo documento in sostanza viene introdotta una vecchia intuizione che è stata introdotta dall'OMS, l'Ordine Mondiale della Sanità, che riguarda i codici ICF, che sono interessanti perché questo approccio alla non abilità, alla disabilità, mettono al primo punto non tanto l'handicap, ma quanto la funzionalità e le potenzialità. Quindi significa questo? Cosa significa? Che se io metto al centro la persona e le potenzialità, e le sue funzionalità e le sue potenzialità, io investo molto sulla fiducia. Come posso mettere per iscritto la parola esonero? Cioè non dal punto di vista strettamente medico, ma dal punto di vista di analisi per impostare un progetto. Come posso poi moltiplicare gli organi che vedono la proposta del gruppo di lavoro operativo? Perché io moltiplico le barriere architettoniche in questo modo. certo. Cioè io praticamente è un controsenso. È una contraddizione, è un piano proprio, si è sviluppata una contraddizione, diciamo delle azioni che prima si sono attivate. Cioè è tutto questo in funzione di che? Di un discorso strettamente economico. Quello che noi stiamo sostenendo è sancito da una legge. Quindi nel momento in cui la famiglia, che ha comunque la condizione di tutela assoluta sul suo figlio, si trova nella condizione di avere una difficoltà e quindi inizia con un percorso di carattere legale, gli verrà riconosciuto sempre questo suo bisogno, perché è sancito dalla legge. Quindi è una condizione che non porta vantaggio di nessuno, perché quella parte di danaro che voleva essere risparmiata viene di nuovo utilizzata, invece viene utilizzata ulteriormente per riconoscere un diritto che è già sancito. Diciamo che una certa strategia c'è da questo punto di vista. Quello che dice la signora Francesca Busca è vero. Diciamo che tutti questi meccanismi aggiuntivi scoraggiano. Quindi diciamo che oltre il risparmio sulle risorse, non abbiamo poi parlato del discorso del range, delle tabelle eccetera, che magari adesso se abbiamo tempo ne parliamo, ma che tutto quello che viene risparmiato non soltanto in risorse che non vengono date, viene risparmiato anche nel fatto che scoraggiandosi diversi genitori, trovandosi un muro di sigle su cui si trincereranno tutti i dirigenti ad ogni livello, in sostanza non faranno ricorso. Invece se prima erano 10 famiglie che facevano ricorso, adesso magari saranno 5 e questo vuol dire un ulteriore risparmio per il muro, perché ovviamente dovrà pagare meno risorse economiche per le cause. Però possiamo intervenire rispetto a questa cosa solo attraverso un'informazione, perché soltanto il sapere porta alla tutela corretta del proprio figlio che anche a livello più alto torna a casa. Siccome è importante soprattutto il rispetto della persona, alla persona non deve essere privata. La legge dice che ogni ostacolo deve essere rimosso affinché la persona possa essere messa nelle condizioni di perseguire il suo percorso di vita. Quindi, come abbiamo detto prima, le parole hanno un senso e il legislatore ha ben pensato prima di pronunciarle. Quindi non possono essere calpestate nel modo più assoluto. Io vedo che qui il problema comunque non è solo per le famiglie con bambini con disabilità, perché io penso che comunque vengano penalizzati anche i bambini con abilità. Il non poter relazionarsi abbastanza con i propri compagni diversamente abili, creerebbe a loro dei problemi, dei limiti, dei limiti non più di vedute ampie, ma che determinate persone sono diverse da altre, perché non si sa perché. Lei ha toccato un punto centrale, su cui fermo un attimo l'attenzione se posso. Nel documento che ho proposto ne parlo, ma il vero danno a mio avviso è quello che lei sta dicendo. Paradossalmente, adesso mi muovo per iperbole, il danno non è soltanto nei confronti degli alunni e degli alunne con disabilità, non è soltanto un danno che si fa anche alle famiglie, perché bisogna sempre pensare al sistema relazionale. Se tu fai un danno all'alunno, fai un danno a tutta la famiglia. Se fai un danno alla famiglia, fai un danno all'alunno. Non è solo questo, che già sarebbe molto grave. Il danno grande, grandissimo, è che tu rovini la dimensione simbolica del futuro. Cioè tu stai dicendo che il futuro che vuoi è un futuro non inclusivo. Certo. Praticamente, questa è un'altra eredità. Noi, la parola inclusione, non tutti abbiamo il dono della fede, però siamo in una settimana importante per i cristiani, per i cattolici. In Natale comunque lo viviamo. Chi ha introdotto l'inclusione è stato il cristianesimo. L'inclusione nasce da questo legame in cui nella visione di fede Dio dà all'uomo e l'uomo in certo qual modo dà a Dio. La stessa cosa succede per quanto riguarda la reciprocità degli alunni con disabilità che la danno agli alunni, come lei giustamente diceva, che non hanno queste dimensioni, che non hanno disabilità, però imparano ad allargare il cuore, a vedere le cose in modo diverso. Cioè si apre veramente il mondo. Allora, se la scuola non include, ha fallito perché parla. L'agenzia educativa rimangia le parole, cioè si rimangia la sua azione, la sua mission. Cioè è questa la cosa grave. Quindi non è, è chiaro che ci vuole per ogni, qui non si va a discutere la progettualità che deve essere assolutamente mirata nei confronti di un ragazzo che ha una condizione di disabilità. Ma una progettualità non significa partire in via prioritaria con il pensiero che lui non potrà fare. Io prima devo creare le condizioni, sperimentarle, verificarle e vedere effettivamente, dire ok, possiamo muoverci in altro modo e non in questo. E' questo che crea la condizione di crescita. Diversamente si vuole rimanere fermi e automaticamente tu crei già un pregiudizio e un preconcetto rispetto a questa persona. Sì, 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 ma i bambini stessi si sentiranno diversi. Quando l'inclusione è dettagli, i bambini non vengono differenza. Ma è il limite che dai a uno sviluppo di crescita globale. Non parlo solo come avete, come si è detto adesso. Cioè, quando viene a meno la reciprocità e le azioni che portano a sviluppare il senso di reciprocità, è chiaro che si crea una condizione di limite. Non è assolutamente una crescita. Quindi i tre punti che sono messi in discussione e sono stati evidenziati a livello nazionale, sono stati portati, ha avuto l'incontro al MIUR, l'associazione Core Down, che ha raccolto comunque con sé le sue azioni sottoscritte da tante altre realtà associative e via dicendo, le ha portate e le ha evidenziate. Significa che non è che uno non vuole riconoscere il bisogno individuale del ragazzo, ma non ci si deve muovere con una condizione di pregiudizio e di preconcetto. Perché l'agenzia educativa, a questo punto, si rivela un fallimento. Perché non è questo il modo di far crescere una società inclusiva. Tra le altre cose, nel contributo che propongo, non c'è solo la critica, ci sono anche delle proposte. Le proposte sono una che possiamo lanciare anche adesso, è molto semplice, è molto intuitiva. Noi dobbiamo guardare a una futura legge quadro, cercando di migliorare la precedente legge quadro, non facendo altre leggi, capito, un pochino a sonam, cioè che fatte e cucite non addosso alla persona, ma cucite addosso all'istituzione. Perché la legge quadro, la legge 104, è una legge cucita addosso, con tutti i limiti che ci sono anche nella legge 104, alla persona. Allora va pensata una legge quadro che possa aiutare e migliorare questa legge, nel filone intuitivo che c'è stata. Io non posso raccogliere le malpractice e fare una legge a misura della… perché non ci sono soltanto le leggi ad personam di alcuni politici, ci sono purtroppo le leggi ad personam dell'istituzione, che se la suona, se la canta e se la applaude. E' questo il discorso, capito? E poi te la vende come che fosse chissà che cosa. Ci sono dei passaggi nelle linee guida, al modo particolare la pagina 61, che se uno le guarda togliendosi il velo della piacioneria e il velo della vendita, si rende conto che sono assurde. In sostanza si parla tantissimo nel documento intero, ma in modo particolare a pagina 61 delle linee guida. Si fa un esempio in cui davanti a una problematica di un alunno con disabilità, si riduce il monte ore del sostegno e si aumenta il monte ore dell'educativa scolastica, che da un punto di vista progettuale in alcune situazioni potrebbe essere estremamente funzionale, estremamente vero. Ma qual è il problema? Il problema è che i comuni ti metteranno un sacco di… perché non producono reddito. Non c'è stato l'investimento del governo nei confronti dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e dall'altra parte l'Anci non ha difeso i suoi cittadini davanti ai governi, e quindi non hanno i fondi per sorvenzionare la formazione, la qualità degli educatori tramite le cooperative e non ha proprio le ore da dare. Ma anche perché effettivamente la figura dell'educatore è ben chiarita, nel senso che sulla base delle risorse finanziarie che ha la propria lente comunale. Quindi siccome poi la figura dell'educatore nasce come figura che integra il lavoro del sostegno, quindi va inserita sulla base precisa di una progettualità, non sostituisce l'insegnante di sostegno. L'educatore non ha la titolarità dell'insegnante di sostegno, qualora venisse, diciamo, fosse assente, deve essere automaticamente sostituito nel giro di pochissimi giorni. L'insegnante di sostegno non può andare a sostituire un insegnante curriculare lasciando il proprio ragazzo, il bambino da solo, perché è interruzione di servizio. Quindi il ruolo dell'insegnante di sostegno è veramente importante. L'educatore non è che va a sostituire l'insegnante di sostegno che non c'è, non è che perché l'insegnante di sostegno non c'è viene chiamato l'educatore, cioè tutto ruota all'interno di una progettualità, come giustamente è stato detto. La legge quadro è stata, diciamo, definita sulla persona, sul bisogno della persona, non può altro che essere migliorata, non sicuramente smembrata degli elementi fondanti. Quindi il nostro gruppo, che è PASOL, che appunto è all'interno del coordinamento territorio e disabilità, ha questo fine, quello di informare e formare. Poi ognuno si muove a secondo della propria discrezionalità, però dobbiamo essere ben consci di quello che è previsto, perché le cose cambiano sulla base di una conoscenza e di una precisazione. Il servizio si attiva sul bisogno e noi dobbiamo far sì, siccome la scuola è un servizio, deve dare delle risposte a dei bisogni che sono nobilissimi e non si devono creare delle disparità. La persona è persona. Personalmente io non riconosco, mi discosto da quello che è la giornata dedicata a la giornata della persona down, la giornata per l'autismo, la giornata per tutte le sindrome del mondo. È la giornata della persona a cui si deve dare attenzione. Poi nella specificità è chiaro che ci devono essere delle azioni mirate perché possa essere tutelata al meglio, ma non si può mettere al primo posto la problematica e non la persona. Praticamente lei prima, signora Zanelli, quando ha introdotto la tematica che ho rimarcato, cioè l'importanza di uno sguardo sul futuro, quindi non ha fatto altro che dire, quello che adesso stiamo dicendo, che l'inclusione è bidirezionale, cioè appunto non soltanto è un atteggiamento di attenzione alla persona con disabilità, ma è quello che la persona con disabilità dà a tutte le persone che non hanno questa disabilità. E questo appunto riguarda come noi vediamo, concepiamo, desideriamo insieme il mondo futuro. Questo è fondamentale. Mi accosto a questo che ha detto adesso la signora Francesca Busca per ricordare a noi stessi, a me per primo, che le giornate di memoria in realtà non servono a niente se potenziano la nostra vanità pietistica. Devono potenziare invece il senso di inclusione di cui parlavamo prima, cioè sono delle date, tra virgolette, liturgiche che noi mettiamo nel planning societario per ricordarci quanto la persona è importante e quanto ogni singola persona con le sue specificità, che sono anche non abilità, può dare a tutto il tessuto sociale. Questo è importante, perché se noi abbiamo una dimensione pietistica, anche questo non soltanto stiamo facendo del male alla persona con disabilità, al minore con disabilità in questo caso, ma stiamo facendo del male a noi. Noi ci stiamo viziando la capacità di ascolto, di donazione. Alla fine alimentiamo solo la nostra vanità. Allora, più una cosa diventa speciale, più diventa specialistica. Questa è la cosa. Le sottolineature eccessive non portano a guardare la persona, il suo bisogno, lo pensano sempre ricondotto ad uno spazio riservato. Lo spazio riservato non porta niente a nessuno. Quando tu parli di disabilità, io parlo come presidente di un'associazione, io non devo coltivare un orto, non devo ricondurre all'accreditamento della mia realtà associativa. Fallisco in questo modo. Io devo ricondurre ad una crescita sociale. Come associazione, io sono uno strumento per far sì che ci sia una crescita sociale. Non che mi si devono ricordare perché ho fatto questa cosa per quella determinata situazione. Ho fatto questa cosa perché si sia sviluppato un pensiero o altro. Questo accredita una realtà associativa. Perché se io penso, e lo dico pubblicamente, non mi interessa, quanto c'è, e poi se si vuole portare avanti o meno questo discorso, non lo so, comunque hanno presentato adesso i calzini spaiati. Cioè per me è qualcosa di assurdo. Cioè quando tu mi evidenzi la diversità, perché è comunque già l'azione dell'essere diverso, non mi fai crescere, mi fai pensare a un diverso. Se tu mi fai una sottolineatura sulla differenza, è un'altra cosa. E tutti dietro, dietro, mi piace, non mi piace, li ho comprati, non li ho comprati. Ma a chi fa bene questa cosa? A chi vende i calzetti. Non alla persona che ha una condizione altra. E questo succede anche per tante altre situazioni, diciamo legate a condizioni di vita altra. E noi dobbiamo stare molto attenti su queste cose. Io non accolgo simpatia, non sono molto social, però quando vedo queste cose, sia che sia legate alla trisomia 21, piuttosto ad altri tipi di disabilità, sono molto critica. perché non vedo l'uttività. Io sono d'accordo nell'evidenziare le situazioni, diciamo, dove c'è stata una crescita culturale, non sicuramente situazioni che portano ad una crescita aziendale. Assolutamente no. Tutto qua. Il discorso è ampio e molto complesso, però io mi rendo conto che chi comunque ha presentato queste proposte forse non si renda bene conto di quello che sta dicendo o proponendo, spero. Perché poi comunque il campo è talmente delicato e difficile poter mettere bocca sulla vita altrui che mi sembra un po' Io penso questo, che in realtà noi non siamo chiamati a giudicare l'intenzionalità, perché sicuramente l'intenzionalità anche di alcune practice sono sicuramente lodevoli. Il problema è che tipo di società noi vogliamo riconoscere, vogliamo vedere insieme, su cui vogliamo crescere. le iniziative se portano ad una crescita di attenzione alla persona e a non di trasformare come appunto diceva prima la signora Busca trasformare in stimoli aziendali o d'altra parte che secondo me anche peggio i stimoli di vanità allora dobbiamo stare veramente attenti in questo perché rischiamo noi di sporcare le cose belle e di non di non cogliere appunto tutta la ricchezza che viene dalla persona con disabilità che può veramente darci tantissimo tantissimo io guardi sono nella disabilità ci sono grazie a Dio da più di 30 anni perché ho avuto una serie di esperienze lavorando anche fuori regione adesso io sto nelle Marche ma prima abitavo o abitato per un periodo in Umbria e ho fatto delle esperienze con dei centri con disabilità di persone con disabilità veramente eccezionali e devo dire che mi hanno dato tantissimo sia a minori che non minori potremmo 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 concludere il nostro incontro fruttuoso anche così nel senso che oggi abbiamo toccato tanti temi forse il tema principale che è un tema che ci viene ricordato non solo dalle festività odierne che sono comunque importanti non solo per chi ha il dono della fede ma anche perché viviamo in un contesto plurale della Pasqua che il tema dell'inclusione è il tema centrale su cui sempre dobbiamo crescere dobbiamo crescere tutti e quindi fare uno sforzo insieme di redazione congiunta nella scuola significa puntare insieme sul ricevere il dono dell'inclusione e saperlo condividere perché appunto non è più tanto uno sforzo nostro c'è anche quello senza dubbio ma è un dono che noi riceviamo e dobbiamo sapere accogliere questo dono noi siamo molto bravi a fare qualcosa mentre è molto difficile spesso accogliere i doni che ci sorprendono e quindi accogliere in questo periodo come in ogni periodo importante dell'anno accogliere il dono dell'inclusione secondo me secondo il mio punto di vista è un augurio che ci dobbiamo fare è uno stimolo che ci dobbiamo fare sempre per la scuola e per tutta la società civile perché su questo possiamo crescere veramente tanto tutti e ciascuno ricordando sempre che appunto l'inclusione non è come dire un dono che noi facciamo appunto a qualcuno ma è un dono anzitutto che noi riceviamo e se noi riceviamo significa che possiamo condividerlo possono sembrare forse parole vuote parole patinate ma in realtà non è così perché chi ha il regalo di vivere accanto a minori e non minori con disabilità si rende conto che questo è la realtà è la realtà quotidiana e più che dire venite e vedete ecco è questo questa è l'unica cosa che uno può può dire pensate che queste siano parole venite e vedete condividiamo insieme dei momenti importanti con le persone meno abili e scopriremo che invece loro ci possono riempire il cuore e la vita e illuminare la testa quindi questa Paolo possiamo dire che è una lotta di tutti che noi dobbiamo tutti sostenere insieme non è un affare di qualcuno è un affare di tutti perché comunque stiamo costruendo la società futura per i nostri bambini e cosa vogliamo che i nostri bambini includano che i nostri bambini abbiano una mente aperta quel che loro possono andare a noi altrettanto quel che noi possiamo andare a loro ma se noi stiamo divisi questa cosa non si farà mai quindi l'inclusione innanzitutto Paolo se noi volessimo in qualche modo interagire con il vostro gruppo avete delle tappi dici dunque adesso sì 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 allora adesso il gruppo Puzzle ha un sito di riferimento adesso un dominio di terzo livello per la verità e le dico subito come si trova a parte che penso che basta mettere Puzzle Pesaro Urbino e su Google dovrebbe uscire comunque il nostro sito è puzzle.enarche .org Enarche sta in principio e su questo sito noi abbiamo tutta una serie di interventi fatti dal gruppo Puzzle nel corso di questi anni e anche diciamo le ultime iniziative e anche compreso insomma tante tanti spunti di formazione come diceva giustamente la signora Francesca Busca di formazione e di informazione per le famiglie ma anche per tutti per tutte le persone uomini e donne di buona volontà insegnanti operatori specialisti eccetera e tra le altre cose si chiama Puzzle proprio perché è una condivisione colorata di competenze insieme possiamo fare non è tanto un'unità quanto piuttosto una comunione che è un qualcosa ancora di più ampio perché ciascuno dà il suo e quello che dà è un bene di tutti per il principio dei vasi comunicanti che si chiama Puzzle